Anche quest'anno ci stiamo preparando per il grande evento della Fiera Agricola di Verona che si svolgerà dal 6 al 9 febbraio prossimi. L'informatore agrario organizzerà ben tre convegni sui temi caldi dell'agricoltura, uno sarà sulle macchine, sui mezzi tecnici per l'agricoltura conservativa e sostenibile, un secondo convegno parlerà invece degli impianti a biogas nelle piccole aziende, quindi dei piccoli e medi impianti, il terzo convegno presenterà una novità assoluta e parleremo infatti di bioraffinerie, una nuova opportunità per l'agricoltore di integrare il proprio reddito. Infine, oltre a questi tre convegni, organizzeremo una conferenza stampa nell'ambito della quale, oltre a parlare dell'andamento del mercato del latte, verrà presentata la nuova newsletter dedicata proprio al mondo della zootecnia da latte. Sarà possibile registrarsi in anticipo ai nostri eventi attraverso il nostro sito internet. Quindi vi aspettiamo a Fiera Agricola e mi raccomando visitate il nostro sito e registratevi ai nostri convegni.